Si è tenuta questa mattina presso il Campolongo Hospital di Eboli l'inaugurazione del reparto Unità Gravi Cerebro Lesioni. L'apertura del reparto, dotato di tutte le attrezzature e dei servizi per il trattamento riabilitativo dei pazienti con patologie di particolare gravità, ha visto la partecipazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sanitaria regionale, a cominciare dal piano ospedaliero e dalla questione dei punti nascita di Polla e Sapri. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per presentare un piano ospedaliero equilibrato, tale da garantire livelli di assistenza davvero eccellenti per i nostri concittadini. Tenga conto che non approviamo un piano ospedaliero da non so quanti anni. Lo abbiamo presentato nella versione definitiva, è stata già convocata la riunione per la valutazione il giorno 17 a Roma, ci auguriamo ovviamente che per il 17 sarà approvato il piano ospedaliero perché questo sblocca il piano per il personale, ci consente di assumere i lavoratori precari che non sono stati ancora stabilizzati e quindi di arrivare alla fase conclusiva della riorganizzazione del sistema. Per quello che riguarda Salerno ovviamente abbiamo riproposto non solo i punti nascita di Sapri e Polla per i quali c'era stato il parere negativo del Ministero a guida 5 Stelle, ma abbiamo fatto di più, ovviamente abbiamo proposto a questo punto di trasformare in dea di primo livello sia Sapri che Polla, oltre ad altre realtà della regione. Dunque ci attendiamo di completare questa fase organizzativa. Dal 2019 noi saremo in grado di assestare definitivamente i rapporti con le strutture private e convenzionate. Mi pare che davvero diamo una svolta definitiva alla sanità campana. La questione del commissariamento si diceva che potrebbe anche essere impugnata la norma che sembra quasi disegnata contro di lei e contro Zingaretti. Non quasi, esclusivamente contro di me, ma noi gli daremo questa soddisfazione per una ragione molto semplice, che non ci sono più le motivazioni per commissariare assolutamente niente. La regione Campania si presenta con un bilancio sanitario che è inattivo ormai da cinque anni. Quindi al limite sono io che devo commissariare il governo per i disastri che stanno facendo con la legge finanziaria. Ci presentiamo con un salto enorme nella griglia LEA, i livelli essenziali di assistenza. Passiamo da 106 punti nel 2015 a 152. Ne ho fatto un miracolo nel 2017. Oggi siamo sulla soglia dei 160 per il 2018. Abbiamo tempi di pagamento che sono ormai da paese europeo. Per i farmaci paghiamo addirittura a 30 giorni, il Cardarelli a 23 giorni. Quindi un miracolo. Abbiamo migliorato prestazioni delicate per le quali avevamo ritardi. parti cesarei per le primipare sono stati ridotti in maniera drastica. Operazioni al femore entro le 48 ore. Liste di attesa estremamente ridotte. Faremo ancora di più. Abbiamo eliminato il ticket regionale di competenza regionale. Rimane solo quello nazionale. Abbiamo fatto un miracolo. Continueremo ad andare avanti così. Dobbiamo migliorare per gli screening oncologici dove vi sono ancora ritardi. Poi ci dedicheremo nel 2019 a realizzare la rete territoriale e a togliere di mezzo anche con convenzioni ad hoc, con transazioni ad hoc, i debiti accumulati negli anni nei confronti di strutture private, convenzionate come questa, di laboratori. Insomma daremo un assetto definitivo alla nostra sanità, che è già una sanità di avanguardia. Non manca mai l'imbecille che pur di gettare, pur di fare politica politicante, getta fango sulla sanità campana. Vabbè, questo lo mettiamo nel conto. Le realtà di assoluta eccellenza internazionale, dal Pasquale al Santo Bono, al Cardarelli, al Ruggi d'Aragon, al Moscati. E quindi mentre qualche imbecille in Campania si appende alle formiche per fare demagogia, apprendiamo che poi in Veneto muoiono sei persone per un batterio che è in una sala operatoria. Apprendiamo che c'è in Lombardia una epidemia di legionella che provoca altri morti. Andiamo avanti con grande serenità facendo il nostro lavoro e credo che il mese di dicembre sarà il mese della svolta.